Ciao ragazzi, benvenuti alla farm, ho i pantaloni a poire e un sacco di tavole Barton da farvi vedere tutti i nuovi rivi 2020-2021, partiamo! Ragazzi, Barton ha sformato la Power Ranch, un mezzo veramente figo per girare in fuori pista soprattutto nei boschetti, super galleggiante, super larga, super corta, superissima insomma, veramente una tavola molto molto figa, intuitiva, facile, divertente un altro aggettivo, diamatica, simpatica quelli tipo alla di pre, presente, tipo... ok, sì, 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 sì quelli, flat, posteriore, per avere una cola che agisce come timone rocker in punta, estremamente pronunciato, estremamente accentuato per slasciare nei boschetti, girare curve strette, schivare gli alberi e, insomma, gasarvi tantissimo quando la neve cade a fiotti il core è un Superfly 2 700, quindi bello leggero, soletta, sinterizzata, fibre triassiali un'ottima reattività, divertente anche in pista nel carving, quando le velocità non sono eccessive fighissimo se questa tavola ti è piaciuta, vuoi fare qualche domanda extra, faccela tranquillamente qua sotto nei commenti sui nostri canali social, puoi chiamare il negozio, chiedi di Gianni, boom